Il gossip italiano torna a parlare di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, alimentando speranze di un possibile riavvicinamento. Dopo la fine della relazione con Giulio Fratini, la showgirl calabrese è tornata single, suscitando curiosità tra i fan. Briatore ha escluso un secondo matrimonio, ma ha sottolineato l'importanza di Elisabetta nella sua vita, definendola famiglia. La recente dichiarazione di Elisabetta, su questioni di stile, in cui ha espresso gelosia verso Briatore, ha aggiunto un'ulteriore dimensione ai sentimenti tra i due ex coniugi. Nonostante la separazione, i legami tra loro sembrano ancora complessi e profondi. La Gregoraci ha anche manifestato contrarietà a un eventuale matrimonio del suo ex marito, evidenziando un legame significativo. In definitiva, la situazione attuale tra Briatore e Gregoraci sembra essere quella di una profonda amicizia, piuttosto che di un ritorno romantico. Nonostante non ci siano piani per un secondo matrimonio, i due continuano a mostrarsi affiatati, dimostrando che le relazioni possono evolversi, mantenendo un forte legame affettivo. La loro storia è un esempio di come l'amore possa trasformarsi in amicizia, mantenendo sempre un legame significativo.